Ciao a tutti ragazzi e bentorni anche ad un nuovo video, io sono Naomi e voi siete Zocchiacchieri tra le lighi. Inizio questo video augurandovi buone feste e buona vigilia, io non so se da voi si festeggia anche la vigilia, quindi il 24. In famiglia festeggiamo anche il 24, quindi per quanto mi riguarda sono auguri sia per oggi il 24 che per domani il 25. Oggi sono qui per fare l'ultima, anche settima puntata, della Christmas Week perché oggi è domenica, come promesso ho fatto una settimana. Per questa settima puntata, quindi per il 24, ho deciso di fare un book tag a tema natalizio che ovviamente non poteva mancare. Tra l'altro è stato divertente scegliere il tag per questa giornata perché ogni volta che mi decidevo per un tag ne spuntava fuori un altro che mi piaceva, quindi ero lì con le mani tra i capelli dicendo qual è il quale faccio, mi piacciono tutti. Alla fine ho optato per un tag che si chiama Books Under the Tree Tag, che era quello che mi piaceva di più e quindi è quello che farò oggi. Prima di iniziare vorrei dirvi che io non partirò per le vacanze, quindi sarò qui in famiglia e quindi io continuerò a pubblicare i video, semplicemente la programmazione del canale si normalizzerà. Ho fatto un video un giorno per questa settimana, adesso manterrò come prima uno o due video a settimana, spero di riuscire a mantenerli sui due. Bene, detto questo direi di iniziare. Sono sette domande, la prima, allora il tag è in inglese, quindi vi dico direttamente le domande in italiano, come al solito. La prima domanda dice qual è il libro o i libri che vorresti ricevere di più e che quindi vorrete trovare sotto l'albero. Allora, intanto io ho fatto un video solo sulla mia wishlist, se non l'avete vista, vera link fino alle schede così sarò sicuramente più esaustiva. Comunque, tra i libri che ho messo in wishlist, quello che vorrei di più è sicuramente The Invasion of the Tearling di Erika Johansson, perché ho tanta voglia di continuare la trilogia, seguito da Traveler di Alexandra Brecken per concludere la duologia. Ho letto questi due libri un po' di tempo fa, sempre quest'anno ma diversi mesi fa, e ho voglia di andare avanti, quindi questi sono sicuramente quelli che vorrei ricevere di più. La domanda numero due chiede qual è il libro migliore che tu abbia ricevuto a Natale, quindi negli anni scorsi. Allora, io non ricordo in realtà molti dei libri che mi hanno regalato a Natale, anche perché come vi ho detto è passato un po' dall'ultima volta che mi abbiano regalato un libro a Natale. Però uno dei miei più belli deve essere stato sicuramente questo, e cioè Harry Potter e l'Ordine della Finicia e della Rowling. Questo risale a tantissimi anni fa, il libro era appena uscito, non mi ricordo in che anno uscì, nel mese, ma non era passato molto, mia madre me lo regalò, incuriosita, perché io ero al secondo libro, quindi ero alla camera dei segreti, non avevo ancora letto il terzo e il quarto, e lei probabilmente voleva vedere se mi sarei scoraggiata, perché effettivamente questo è il più grosso che fosse stato pubblicato fino a quel momento, infatti è in realtà il più grosso, penso sia, penso sia anche il più grosso dei Doni della Morte, è credo il più grosso della serie, quindi volevo vedere se mi sei scoraggiata, invece lo lessi tutto e poi andai avanti con gli altri. Ricordo che fui felicissima di questo regalo, perché in realtà lo volevo, perché era la novità, ma avei aspettato, quindi alla fine sono stata contenta di averlo prima del tempo, perché avrei dovuto aspettare di leggere anche gli altri due, e quindi credo sia che questo sia perfetto per questa domanda. Domanda numero 3, quale libro ti ricorda il Natale? Questa è una domanda che va molto a sentimento, immagino, allora ci ho pensato un po', perché io mi trovo sempre in difficoltà con queste domande, e dopo averci pensato un po', ho concluso che il libro che mi ricorda il Natale è L'Ombra del Vento di Carlos Ruiz da Fon. Ricordo che ci vorrete da leggere la professoressa di italiano, sì, di italiano al liceo, non mi ricordo se era il secondo o il terzo anno, era uno dei primi anni, e ricordo che passavo le notti su a leggere, stavo fino alle 2, 2 e mezza, 3, perché questo libro mi prendeva tantissimo, e l'avevo letto durante le vacanze di Natale, quindi sì, alla fine ho concluso che un libro che mi ricorda il Natale è questo, mi sono dovuta affidare a questo tipo di collegamenti, perché io non ho libri prettamente natalizi, per esempio un libro come Il Cantone di Natale non ce l'ho, perché non l'ho ancora letto, quindi sì, la mia risposta è L'Ombra del Vento di Carlos Ruiz da Fon. Oh cielo, io avevo registrato fino alla fine, mi sono accorta che lui il secondo pezzo non l'aveva registrato, quindi da qui in poi devo registrare di nuovo. Riprendiamo dalla domanda numero 4, che chiede quali libri ho intenzione di leggere per entrare nel mood natalizio? Allora, per me la magia fa tanto Natale, non credo sia, io sia l'unica a pensarla così, quindi io seleziono tre libri che vorrei leggere in questo periodo, poi non so se riuscirò a leggere tutti, anche perché sto partecipando ad una Christmas Challenge, che è la Light and Share Christmas Challenge, quindi non so se avrò il tempo di leggerli, uno sicuramente lo voglio leggere, e sono tre libri che in qualche modo parlano di magia. Uno è un libro sulla magia per eccellenza, e cioè Harry Potter and the Philosopher's Stone di J.K. Rowling. Avevo recuperato qualche mese fa questa copia in inglese, perché ho intenzione di rileggermi la serie in inglese, e questo ci sarebbe veramente bene, così come Crown of Midnight di Sarah J. Musk, che è il seguito di Throne of Glass. Anche questo secondo me ci starebbe bene, non è proprio sulla magia, proprio pesantemente, almeno non nel primo libro, poi non so che svolte vogliono prendere negli altri libri, comunque un po' di magia c'è stata nel primo, immagino ci sarà anche qui. Oppure, altra scelta, è The Waking Land di Kelly Bates, dove c'è una protagonista che ha dei poteri magici. E sì, questi libri starebbero bene, cercherò di leggerne almeno uno, perché starebbero effettivamente molto bene, magari anche due se riesco, dipende da quanto mi prendono, perché ho anche i libri della challenge da leggere. Domanda numero 5, quali libri che hai letto quest'anno vorresti mettere via insieme all'albero? Tecnicamente la domanda diceva che vorresti buttare via insieme all'albero, però intanto all'albero non si butta, l'albero si mette via, quindi già non stava. E comunque i libri non li butto, li do via o li vendo, li scambio, eccetera, eccetera, quindi secondo me era meglio tradurla più liberamente. Un libro che sicuramente darò via, di cui mi voglio liberare dopo le feste, è Il discepolo di Elisabeth Kostova, su cui avevo delle aspettative grandissime, ma che non mi è piaciuto, l'ho trovato anche noioso, e alla fine non sono neanche riuscita a finirlo. Avevo parlato di questo libro nel wrap up di ottobre, era un libro su Dracula, sulla ricerca di Dracula, c'è persone che cercano Dracula e sembrava interessante, ma alla fine era molto ripetitivo, noioso e nulla, non ce l'ho fatta, quindi sicuramente questo deve sparire dal mio scaffale. Domanda numero 6, un libro che vorresti mettere sotto l'albero di Natale di un amico quest'anno? Quindi un libro che vorresti regalare a Natale quest'anno? Allora, in realtà io non ho molta possibilità, di regalare libri, perché faccio ad esempio, mia sorella legge ma non li compra i libri, li legge in biblioteca, mia madre legge soprattutto dalla mia libreria, e mia sorella ci mettiamo insieme per farle regali, e solitamente regaliamo qualcosa di un pochino più prezioso, comunque qualcosa un po' più su di prezzo, quindi alla fine non andiamo mai sui libri, e per una cosa o per un'altra io purtroppo non ho molte possibilità di sfogarmi in questo senso, però se potessi regalare un libro a Natale sarebbe uno di questi libri, che vanno bene a seconda del tipo del lettore. Allora, se il lettore leggesse in inglese e fosse un amante del fantasy, regalerei sicuramente Flaming the Mist, di René Adie, che è un libro molto bello, dalle ambientazioni affascinanti, è ambientato in un Giappone medievale, e classificato come retelling di Mulan, secondo me questa definizione è un po' forzata, l'avevo già detto nel rapa quando ne avevo parlato, ma non tolgo che sia un libro molto molto bello, io lo regalerai sicuramente. Fantasy per un italiano, qualora non l'avessi ancora letto, The Queen of the Tearling di Erika Johansson. C'era un riflesso molesso dall'altra parte, quindi cambiamo lato. Comunque, The Queen of the Tearling di Erika Johansson, che è un libro molto famoso, quindi dovrei prima informarmi se questa persona l'abbia letto o no, ma è un libro molto bello, che gli ho portato tantissimo, tra l'altro è stato un libro che ha sognato una svolta positiva nel mio anno di letture, perché fino a quel momento avevo letto dei libri anche belli, ma che non è che mi avessero preso tanto da tenermi incollata alle pagine, questo è stato il primo, quindi sicuramente è un libro che consiglierei, che regalerai. Se invece questa persona non fosse appassionata di fantasy, un libro che regalerai è sicuramente La Casa Tonda di Louise Erdrich. Non è un libro molto natalizio, nel senso che non è un libro molto allegro, perché ci sono tematiche pesanti come la giustizia, la violenza, lo stupro, l'ingiustizia, la vendita, eccetera, eccetera, però non so perché io lo vedo bene come un regale. Infatti mi pare di averlo messo nel video sui libri da regalare a Natale, se non sbaglio, comunque io lo regalerai personalmente. L'ultima domanda chiede di creare una pila di libri, alternando libri con la costina verde a libri con la costina rossa, di farla vedere e poi mostrare i libri uno per uno. Facciamo una bella cosa. Vi faccio vedere la pila prima così in blocco e poi vi faccio vedere uno per uno i libri. Riuscirà la nostra eroina a far vedere la pila senza farla cadere? Scopriamolo insieme. Allora, la pila è questa qua. Ecco, ve la faccio rivedere. Adesso vi faccio vedere i libri uno per uno. Il giardino dei seri di Kate Morton che io ho già letto per la verità. Questa pila è composta quasi esclusivamente da libri che non ho ancora letto, ma per motivi di colore ho dovuto fare così. E non mi è piaciuto molto, infatti è qui giusto per fare colore. Il mio splendido migliore amico di A.G. Howard che è un retelling di Edizione Paese delle Meraviglie che non ho ancora letto. Altro libro con la costina rossa, La canzone di Achille di Madeline Miller che dovrebbe essere un retelling di Liliade. Ritorno a Kate Morton con un libro con costina verde con Una lontana follia che non ho ancora letto. Lo leggerò ma con un po' di ansia perché, come vi ho detto, l'altro libro della Morton che ho letto non mi è piaciuto, però, insomma, non facciamo di tutta erba un fascio. Diamo un'altra possibilità a questa autrice. Costina rossa, nonostante davanti sia nero e dietro bianco. Halfbed di Sally Green che è un libro sulla magia con stregoni bianchi e stregoni neri. Il protagonista che è figlio di uno e uno, uno bianco e uno nero, quindi si trova un po' lì in mezzo. Perché i pesci non affoghino di Amy Tan, un libro sulla morte di una ragazza. Il suo spirito rimane legato alla terra e lei segue i suoi amici in una sorta di viaggio che dovevano fare insieme. Passiamo parli ad un classico, La Saga Infinita di Michael Hand che, sì, non l'ho ancora letto ma rimedierò quanto prima. E infine un mattonazzo verde, cioè Ineripensa di Christopher Paolini, quarto, non che ultimo volume della saga dell'eredità che io devo rileggere perché, non so, ho voglia di rileggerlo anche perché tra i primi due e gli ultimi due era passato un po' di tempo quindi sono curiosa di rileggerli tutti insieme. Anche la pila di libri è andata, questo è tutto, quindi il tag è finito. Mi chiede, tra l'altro, di taggare qualcuno ma come al solito io vi taggo tutti se il video vi è piaciuto e il tag vi è piaciuto e volete riproporlo, avete una piattaforma di qualsiasi tipo, un blog, un canale YouTube, una pagina Instagram, qualsiasi cosa, sentitevi liberi di riproporlo. Io, prima di terminare questo video, vi rinnovo i miei migliori auguri per le feste, spero che passiate delle buone feste con i vostri amici, con la vostra famiglia, con chi vuole quelli passiate. Vi ringrazio inoltre di essere stati con me in questa settimana, spero di avervi tenuto un po' compagnia. Per il video, quindi, anche oggi è tutto, grazie per essere stati con me, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, un bel pollicione in su, trovate sotto i miei contatti Instagram e Goodreads, su Instagram trovate la pagina ufficiale del mio canale, per cui se volete seguirmi extra YouTube mi trovate soprattutto lì. Se è la prima volta che vedete un mio video che è arrivata sul mio canale, date un'occhiata agli altri miei video, se vi va iscrivetevi e vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, ciao!